L'assessore al lavoro Paolo Gatti, 12 milioni di euro per finanziare quali soggetti? Allora, microcredito 2 era una parte del pacchetto lavoro subito, c'erano 10 milioni, abbiamo deciso di portarli a 12, questo per finanziare 876 attività con 25 mila euro al tasso di restituzione dell'1%. Quindi una risposta alla difficoltà di accesso al credito per imprese già esistenti che magari sono in difficoltà e non riescono ad accedere ai tradizionali canali bancari oppure per nuove iniziative imprenditoriali o professionali di giovani. In particolare parliamo in questo caso di 537 attività esistenti da consolidare e di 339 nuove attività. Quindi complessivamente 876 aziende finanziate col microcredito, se aggiungiamo la prima edizione totalizziamo 1836 attività aiutate e finanziate non bancabili che la regione invece ha deciso di sostenere e penso che questo abbia a che fare con il lavoro. Ecco, assessore, lei ha dato un dato abbastanza illuminante su questa attività svolta dalla regione Abruzzo a sostegno del mercato in un momento di grande difficoltà. Il giorno successivo alla pubblicazione del bando 2.000 domande erano già pervenute e questo perché per la prima volta voi avete utilizzato un metodo di incontro con il territorio. Non per la prima volta, per la prima volta in questa legislatura si è utilizzato questo metodo. Noi anche sul pacchetto lavoro subito abbiamo fatto incontri sul territorio, da Martinsicuro a San Salvo fino all'interno, alla provincia dell'Aquila. Abbiamo fatto 25 incontri con l'assessore, con gli uffici, intanto per raccontare che c'era il microcredito, poi per spiegare come si poteva fare a partecipare e le 2.000 domande che abbiamo ricevuto testimoniano che questo lavoro ha portato dei frutti. Poi è stato anche il motivo per il quale abbiamo deciso di implementare la situazione finanziaria per dare più risposte perché su circa 1.700 domande ammissibili del primo giorno era giusto avvicinarsi a un 50% delle domande finanziate. E quindi questa è la nostra risposta, come dico ultimamente, dire deve significare fare. Se diciamo che c'è un problema di accesso al credito la politica deve dare risposta e noi con il microcredito 1 dell'anno scorso e il microcredito 2 di quest'anno pensiamo di aver dato una risposta adeguata.